Vieni, ti porto in un luogo sicuro. Prendimi la mano. Non puoi aiutarmi. Shepard! Sono qui! Ah, è tutto un dannato casino. Ogni minuto queste macchine uccidono migliaia di innocenti. Non ne sarò responsabile. Combattere una guerra è difficile, ma lo è ancora di più sapere che non riuscirò mai a salvarli tutti. Esatto. L'hanno attaccato così in fretta? Pensavo che avessimo più tempo. Sapevamo del loro arrivo. E hanno comunque ambientato le nostre difese. Dobbiamo raggiungere la cittadella. Parlare con il consiglio. La cittadella? Lo scontro è qui. Presto sarà ovunque, l'hai detto tu stesso. Se non li fermiamo i razziatori... Il consiglio deve aiutarci. Ne sei sicuro? No. Ma eri uno spettro del consiglio. Deve pur contare qualcosa. Ci sono... Grazie. Le devo un favore. Sono uno. Prendi delle munizioni. Ricarica e proseguiamo. Mio Dio. Maggiore Alenco, siamo vicini allo spazio porto. Tempo previsto tre minuti. Siamo arrivati alla Normandy. Ci stanno attaccando. Oh no. Ando per abbattere quella corazzata. Manovre evasive. Maggiore. Kaidan. Sono nei guai. Normandy! Dovremmo fare una deviazione. Mi ricevete? Alleati. Normandy, rispondete! Voi due state bene? Giù. Vi vedranno. Tieni giù la tua mano. Perciò. Finisci. Shepard, qua giù. Che è successo qui? La nostra navetta è stata abbattuta. Siamo sopravvissuti in pochi. Hai una radio? Dobbiamo contattare la nostra nave. No, mi spiace. Ce n'è una nella navetta. Ma brulicherà di quelle cose. Resta qui, figliologi. Tireremo fuori. Forza, raggiungiamo quella navetta. Che diavolo sono? Ecco qua. Siamo sopravvissuti in pochi. Normandy, qui Anderson. Mi sentite? Amiraglio, la vostra posizione. Una navetta abbattuta nel porto. Attivo la voa di soccorso. Andate sul porto. Abbiamo un ferito. Maggiore. Dannazione, ho perso il segnale. Speriamo che quella voa funzioni. E in fretta abbiamo compagnia. Spero che arrivino presto. Siamo in due. Stoppimento le munizioni. Ecco le navi. Speriamo che la cavalleria è qui, signori. Speriamo che la cavalleria è qui. Andiamo. Benvenuto, Shepard. Grazie! Shepard. Forza! Io non vengo. Hai visto quegli uomini? Ce n'è un milione e hanno bisogno di un leader. Combatteremo insieme, Anderson! È uno scontro che non possiamo vincere senza aiuto. Servono tutte le specie e le loro navi se vogliamo sconfiggere i razziatori. Parla con il Consiglio, convincili ad aiutarci. E se non ascoltassero? In tal caso costringili a farlo. Ora va, è un ordine. Non prendo più ordini da lei, ricorda? Considerati reintegrato, comandante. Sai cosa devi fare. Tornerò ad aiutarvi e porterò ogni flotta possibile. Buona fortuna. Anche a te, Shepard. Anche a te, Shepard. Anche a te, Shepard. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.